Nel calcio conosciamo tanti fenomeni ed è facile apprezzarli per le loro giocate. I vari Ronaldo, Messi, Neymar sono giocatori che tutti amano e come da ritorto. Anche io adoro questi giocatori, ma ci sono giocatori che si amano non tanto per le qualità tecniche, magari per la loro grinta o per la loro capacità di far gol, se questi sono attaccanti. Oppure la qualità nel dribblare, la visione di gioco, le abilità difensive o persino in porta. Quel giocatore che quando vedi giocare, anche se in una squadra avversaria, ti esalti, ti innamori di una sua qualità e quando in campo la mette in mostro, non fai altro che rimanere sbalordito. Quel giocatore che non sarà tra il migliore al mondo, non sarà un top player, ma è quel giocatore che il tuo cuore ha scelto come tuo preferito, anche se non sei il motivo. Perché mi piace vederlo giocare? Bella domanda. Non ti darai una risposta nemmeno quando per l'ennesima volta ti rivedrai le sue giocate, solo perché un giorno vorresti essere come lui e non come gli altri che vorrebbero essere migliori al mondo. A te basta essere come il tuo idolo, adesso vi starete chiedendo chi è il mio. Ve lo dico subito, il suo nome è Andrea Belotti. Stoccarda vette anche un grande cross verso Belotti! Il gallo alzò e il passaggio! E' il 2.000 vantaggio! Ancora il gallo! Molti! Ancora Belotti! 2-1! Poi! Che si riprende! Quanto l'errore che prepara l'anno scorso verso Belotti! Andrei! Belotti! 1-1! L'Inter restituisce quello che andrà... Non so il motivo, so solo che vedere giocare a Belotti mi lascia a bocca aperta. Molti di voi penseranno, ma cosa fa di così speciale per lasciarti a bocca aperta? Appunto, non so darvi nemmeno io la risposta, ma adoro guardare i suoi gol, le sue migliori giocate, che siano un semplice passaggio o un gol in semi rovesciata. E' brutto ritrovarselo almeno due volte a stagione contro, visto che so che per quelle partite i suoi gol non esulterò, mentre per l'altra 36 quando segna lui sembra che io ti fitorino. Vuole che Belotti vincesse la classifica marcatori, la scarpa d'oro e il pallone d'oro. Anche se è impossibile, ma come si so nello scudetto, la Champions è di conseguenza il triplete. Per la propria squadra del cuore, per il proprio giocatore preferito si so ne di tutto, perché anche se andare in una squadra di uguale, non passando per la tua, ovviamente, al rispetto preferito, e gli augurerà il meglio per la sua carriera. Grazie mille!